Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Vi abbiamo occupato un'oretta del sabato mattina, ma in questa settimana abbiamo pensato che fosse opportuno incontrarci per parlare della nostra regione perché non stiamo vivendo un momento particolarmente facile. E dopo aver ragionato per molto tempo di infrastrutture in questa regione, che sono francamente la madre di tutte le battaglie per la nostra regione, ci siamo anche trovati ad affrontare una delle settimane più difficili per il nostro territorio. Veramente più difficile, al di là del dolore delle morti, forse anche del crollo del Ponte Morandi, che era un'interruzione localizzata della nostra rete autostradale, mentre oggi stiamo vivendo una chiusura selvaggia, singhiozzo, ancorché dettata da ragioni di sicurezza, ma francamente pensata in modo surreale, grottesco, se non fosse quasi drammatico per le conseguenze che porta. E tanto più che tutto questo avviene nella settimana in cui siamo ripartiti dopo un lunghissimo lockdown e nelle prossime settimane, quando ancora più da lunedì prossimo, il Paese tornerà a viversi e ad aprirsi, quindi in un momento particolarmente difficile. Per ripartire abbiamo bisogno soprattutto di poterci muovere e di poterci muovere liberamente in sicurezza, in una piattaforma come la Liguria che della logistica, dello spostamento, del turismo, dei passeggeri, dei traghetti, speriamo presto dei passeggeri delle navi di a crociera, speriamo ovviamente in un flusso turistico, francamente senza la mobilità, la nostra regione è una regione che è azzoppata al suo interno, ma perde anche la sua funzione di grande centro per il Paese. Allora siccome con gli alleati tante volte abbiamo condiviso progetti sulle infrastrutture, riteniamo tutti e ritengo che la prossima legislatura regionale sarà la legislatura chiave per le riforme che sono legate alle infrastrutture, oggi ci sembrava la giornata più opportuna per tornare a mettere in campo tutte le nostre idee per quello che dobbiamo fare in questa regione. Alcune battaglie le stanno facendo in Parlamento, non è un caso che il segretario della Lega regionale sia anche responsabile nazionale delle infrastrutture di quel partito, per dire quale importanza per noi rivestono il tema infrastrutturale nella regione Liguria. Cosa c'è oggi che non va? Quasi tutto. Abbiamo delle risposte a portata di mano? Francamente quasi nessuna. Al momento l'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture è un'interlocuzione particolarmente difficile su molti campi, ma non solamente quello delle infrastrutture terrestri o ferroviarie. Penso ad esempio al fatto che ancora oggi, e siamo alla metà del mese di giugno, sull'aeroporto Colombo di Genova c'è ancora un solo volo programmato di Alitalia, una compagnia di bandiera che dovrebbe essere nella ripresa del Paese, la propulsione degli aeroporti regionali e dei territori più turistici del Paese, ancora non sappiamo quando verrà ripristinato una qualche normalità nella programmazione dei voli. Basti pensare che nel nostro territorio ci sono tre concessionari autostradali fondamentali per gli investimenti accessori collegati alle concessioni pubbliche, che sono due scadute in attesa di futuro, di capire che cosa succederà su quelle tratte, parlo della Fiori e parlo della Salta, e una in corso di revoca, ma una revoca che dura ormai un po' come Beautiful, da un paio d'anni senza fare un passo avanti, ma senza poter in alcun modo programmare il futuro, salvo la programmazione che state vedendo in queste ore sulla rete autostradale della Liguria. Un piano che a differenza di quello che è stato erroneamente detto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è stato condiviso in alcun modo da Regione Liguria, è stato presentato a Regione Liguria dalla concessionaria perché abbiamo richiesto un incontro per farcelo spiegare, ma nessuno aveva concordato con noi alcun tipo di piano per le nostre autostrade. Non ci sfugge l'esigenza di metterle in sicurezza, ma non ci sfugge neppure il fatto che se una persona si trascura e non si cura per vent'anni, il medico non gli può far prendere in un solo giorno tutte le pillole che non ha preso nei vent'anni precedenti, perché il risultato non è la guarigione del paziente, è la morte assoluta, forse altro per soffocamento, è quello che sta avvenendo alla nostra Regione. Quindi noi abbiamo bisogno e oggi siamo qua tutti insieme per dire che le infrastrutture saranno il piatto forte, il piatto di portata della nostra politica nelle prossime campagne elettorali e nella prossima legislatura regionale. E questo si lega ad un altro grande tema, che oggi apro solamente di sfuggita, ma che evidentemente è fondamentale. Chi decide su quelle infrastrutture? E questo si lega al tema dell'autonomia, che sapete è partita nella passata legislatura, quella che si sta chiudendo e che io penso debba avere una forte accelerazione, ma non lo dico solo io, dopo il Covid lo stanno dicendo molte regioni di tutti i colori politici in Italia, deve avere una forte accelerazione perché non è possibile, ed è un esempio banale ma ben comprensibile, che sulla gronda si continui a tergiversare perché una forza politica, il Movimento 5 Stelle, insiste sul fatto che sia un'opera inutile, per lei era inutile anche il terzo valico, è inutile anche la TAV, ma la cosa grave è che in questa regione non parta un'opera fondamentale e già finanziata come la gronda per il veto di un partito politico che in questa regione non governa neppure un condominio. E a fronte del fatto che in questa regione tutte le associazioni di impresa, tutte le parti sociali e i principali sindacati, tutte le forze politiche che ad esclusione del Movimento 5 Stelle, ritengano la gronda un'opera fondamentale e su questo c'è anche un emendamento al decreto sulla ripartenza del Paese di cui parlerà più diffusamente Edoardo. Tutto questo vuol dire che i territori francamente hanno pochissima voce in capitolo, che al di là del fatto che ci riempiamo la bocca con tanti proclami, poi alla fine non si riesca a decidere francamente che cosa è importante per un territorio. Allora, senza che vi elenco tutte le migliaia di opere che dovremmo fare in questo territorio, ce ne sono alcune che sono fondamentali per il nostro futuro e su cui ci piacerebbe potesse concentrarsi il dibattito politico e sociale. Mi piacerebbe sentire anche la voce del mondo economico e del mondo sindacale su questo in modo vivace, diciamo così. Il raddoppio della Pontramolese, il tunnel della Fontana Buona, le varianti Aurelia che sono bloccate da troppo tempo, il tema della linea ferroviaria per Roma che è una linea a canna unica che risale agli anni del ventennio e poi su Genova le gigantesche opere che questa città aspetta e sono a portata di mano ma non partono mai, un po' come aspettando Godot, il nodo di Genova, la grande diga del porto, la gronda, la fine del terzo valico e il suo quadruplicamento nella pianura padana. E poi andando verso Ponente, la grande variante Aurelia di Savona che è lì bloccata in attesa di un progetto che venga accolto dagli enti locali e che noi riusciamo a mettere in piedi, il raddoppio della ferrovia di Ponente, ce ne sono tante, la carcare predosa che è un altro progetto che esiste da molto tempo e che potrebbe sbloccare molto del nostro territorio a Ponente che tipicamente per orografia è posto in una situazione ovviamente di isolamento geografico. Allora, tutto questo io credo debbano essere i temi veri della campagna elettorale prossima perché la campagna elettorale è un momento di dibattito tra le forze politiche e sociali e quindi è giusto che si sottolinei quelle che sono le priorità delle varie coalizioni che si sfidano per continuare a governare o per andare a governare questo territorio e penso che ci voglia una parola di chiarezza che non ho ancora sentito da molti dei nostri avversari che giocano a risico tra i candidati ma svicolano molto dalla presa di posizione su che cosa poi quei candidati faranno in questo territorio. Noi cosa dobbiamo fare ce l'abbiamo molto molto chiaro ed è la regione per cui siamo qua oggi con una conferenza stampa che è politica della coalizione per dire che per noi le infrastrutture sono il tema numero uno della prossima campagna elettorale perché trovo anche vergognoso il fatto che si continui a bloccare una regione dove potrebbero essere dati migliaia e quando dico migliaia intendo molte migliaia di posti di lavoro aprendo i cantieri e invece non lo si fa e ritengo anche che sia chiaro sottolineare che la maggioranza politica che oggi governa questa regione e la maggioranza politica che sono certo governerà per i prossimi cinque anni questa regione sulle infrastrutture ha le idee chiare, la volontà di farlo e anche la capacità di portarle avanti se attraverso l'autonomia ci sarà dato mandato di farlo. Vedo dall'altra parte una campagna elettorale che scarica colpe sulle istituzioni locali che sono totalmente di un governo nazionale che sulla Liguria non ha dato alcun segno di attenzione nell'ultimo anno, l'ultimo atto con cui un governo nazionale ha dato un segno di grande attenzione alla regione Liguria è stato il decreto Genova grazie al quale abbiamo il ponte Morandi c'era un altro governo e c'era ancora Edoardo a fare il vice ministro dopodiché abbiamo perso notizia del governo nazionale che siano per gli investimenti poi forse ne parlerà diffusamente Marco Bucci che abbiamo voluto qua accanto a noi oggi non abbiamo più avuto alcun segno, non abbiamo avuto nessun segno e sono passati ormai due anni, andiamo verso l'inaugurazione del ponte il secondo anniversario di quelle morti e noi non abbiamo avuto più da Roma il segnale che qualche cosa in Liguria si potesse muovere di questo credo che tutti si devono assumere le responsabilità che hanno questa è la ragione per cui vi abbiamo scomodato a venire qua questa mattina perché le infrastrutture devono essere chiaramente il tema del prossimo futuro della Liguria, dalle infrastrutture dipende la vita di questa regione il benessere di questa regione, c'è chi continua a farne un tema ideologico c'è chi continua a farne un tema di pura campagna elettorale a scarica barile senza contare di avere delle responsabilità verso i cittadini di questa regione noi invece ci vogliamo far carico di queste infrastrutture e diciamo chiaramente quali sono i nostri obiettivi alla fine dei prossimi 5 anni avere il terzo valico finito, la gronda in lavorazione, l'anello di Genova finito avere il raddoppio di Ponente, avere il tunnel della Fontana Buona avere almeno la mini Pontremolese e quant'altro se il governo ha intenzione di farlo siamo disponibili a lavorare con grande praticità e pragmatismo con qualunque governo se il governo non ha intenzione di farlo c'è bisogno che questa regione faccia sentire forte e chiara la sua voce perché non ho intenzione di far morire regione Liguria per asfissia attraverso quello che non si fa o attraverso quello che si fa male come quello che stiamo vedendo oggi sulle nostre autostrade Allora, direi che possiamo partire partiamo da Gagliardi, dai da sinistra poi lasciamo Edoardo a chiudere perché siamo lì che devo fare il mio lavoro Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti certo che da qua vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro come diceva il Presidente abbiamo avuto l'impressione in questi mesi anche attraverso i lavori parlamentari le attività ispettive le interrogazioni che presentiamo regolarmente sulle infrastrutture della Liguria, sulla Gronda ma non solo io ho spesso interrogato il Ministro anche sulla variante Aurelia della Spezia che purtroppo è ferma da tanto e l'impressione che abbiamo avuto è quella dell'immobilismo cioè noi abbiamo di fronte una struttura che nonostante il cambio al vertice quindi nonostante si sia passato da Toninelli alla De Micheli in realtà non è cambiato nulla siamo nella stessa identica situazione continuano a non arrivare le risposte l'ultima proprio questa settimana su un'interrogazione sulla Gronda è arrivato il sottosegretario con un foglio dove sostanzialmente non si diceva niente se non che nel 2019 era stato convocato un tavolo ecco questo è il grande sforzo che ha fatto il Ministro per decidere cosa fare della Gronda Gronda che sappiamo bene essere un'opera strategica fondamentale per Genova, per tutta la Liguria che non si può prescindere e a un certo punto naturalmente inizia a venirci il dubbio che questo tipo di atteggiamento sia in qualche modo ostruzionistico legato naturalmente al colore di chi governa la Regione al fatto che presto si andrà ad elezioni non possiamo sottovalutare questo aspetto perché ad un certo punto chi dà le carte dovrebbe avere in mano un mazzo dove le carte ci sono tutte se invece in questo mazzo le carte vengono distribuite sempre nello stesso modo evidentemente c'è qualcosa che non funziona è un cortocircuito e noi questo non possiamo che evidenziarlo evidenziarlo con chiarezza e prendere una posizione ferma definitiva perché tutti i Liguri devono sapere che ci sono delle responsabilità che sono riconducibili al governo che sono riconducibili a quel Ministero che sono riconducibili all'immobilismo che deriva indubbiamente dalla politica del no dei 5 Stelle a cui però le altre forze di governo si stanno evidentemente prestando e che però sono inaccettabili ora la situazione delle autostrade che abbiamo visto in questi ultimi giorni è drammatica non possiamo accettare che in qualche modo sempre quell'inerzia del Ministro quel non decidere porti il concessionario a sua volta naturalmente a non prendere decisioni ora nessuno di noi parteggia per un concessionario piuttosto che per un altro però le decisioni vanno prese ed è esattamente quello che noi oggi lamentiamo e vorrei sottolineare un'altra cosa notizia di questa mattina il Ministro De Micheli esce con delle interviste dicendo appunto che ha portato da Conte per gli Stati Generali il riparti Italia Veloce hashtag Italia Veloce bene allora hashtag Italia Veloce 200 miliardi di soldi in 15 anni ma se ne abbiamo già 80 a disposizione che non riusciamo a spendere questi soldi in fondo a cosa serviranno? ad essere di nuovo depositati nelle casse di qualche ente piuttosto che del Ministero e che non vengono spese? è assolutamente inaccettabile in più aggiungo il Ministro ha presentato questo programma di grandi opere di opere di realizzazioni di implementazioni ferroviarie viari eccetera autostradali ma che non sono state in alcun modo condivise con i territori perché io vorrei chiedere al Presidente Totti se in qualche modo è stato interpellato dal Ministro De Micheli se c'erano delle opere che lui preferiva rispetto ad altre da inserire in quel programma e questo ripeto non credo che possa essere accettato da noi quindi la nostra presenza qua questa mattina è proprio per dare un segnale certo, chiaro, definitivo di una sorta di ribellione noi non ci stiamo questo è il messaggio che vogliamo che arrivi al Ministro perché il modello Genova noi vogliamo che il modello Genova sia quello che viene portato avanti non il modello PD o il modello 5 Stelle grazie da parte mia un saluto sentivo l'onorevole Gagliardi evidentemente nel centro sinistra anche come slogan sono un po' a corto Italia veloce mi pare che 5 anni fa c'era un'altra che diceva la Liguria va veloce mi pare che non li abbia portato molto bene era l'allora candidata Raffaella Paita beh io credo che il messaggio più bello più concreto che possiamo dare questa mattina ai nostri concittadini Liguri sia quello di dimostrare che da una parte c'è una coalizione sicuramente etereogenea con tante sensibilità diverse con tante sfumature diverse ma su una cosa siamo tutti d'accordo e condividiamo sul tema delle grandi opere da questa parte c'è una coalizione che è convinta dell'importanza delle grandi opere di come per una regione come la nostra che vive di turismo che vive di logistica che vive di tante imprese quanto sia importante dare delle infrastrutture degne di questo nome siamo convinti che in tutto questo tempo sia stato veramente siano state perse tante occasioni tra l'altro anche qui io mi rendo conto che la politica a volte riesce a mettere cose insieme che difficilmente ci possono stare ma basta andare a vedere cosa è accaduto in questi cinque anni caro Presidente del nostro Consiglio regionale non esiste un solo documento che sulle grandi opere abbia visto una condivisione tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle e allora non si capisce come mai in tutti i cinque anni in un percorso in un'intera legislatura c'è stata una profonda divisione proprio sulle grandi opere ora capire come potranno proporsi agli elettori con una visione voglio dire concreta di sviluppo per il nostro territorio ecco noi lo ha detto prima l'onorevole Gagliardi siamo convinti di questo siamo convinti che ci pensa già la burocrazia a rallentare a dilatare i tempi la politica deve assolutamente avere le idee chiare noi le abbiamo e sicuramente quello che ha detto il Presidente prima i prossimi cinque anni saranno fondamentali per la nostra regione e siamo convinti che con ovviamente la disponibilità e il rapporto al governo sarà tutto più semplice ma anche qualora non ci fosse noi andremo avanti lo stesso per la nostra strada per il bene dei nostri cittadini grazie sono un esperto allora beh intanto sono qua a rappresentare Genova e rappresentare Genova perché perché noi stiamo finendo i lavori del ponte abbiamo dimostrato cosa può fare una città abbiamo dimostrato quello che tutti chiamano il modello Genova e tutti ne parlano ma pochi lo conoscono e quindi forse dovremmo fare anche un lavoro migliore per far capire a tutti quanti cos'è il modello Genova però questo è un dato di fatto abbiamo dimostrato come si fa a lavorare come si fa a lavorare tutti assieme come si fa a lavorare sulle infrastrutture la città di Genova soffre di circa 35 anni di mancate infrastrutture se guardate l'ultimo metodo d'autostrada è stato fatto nel 77 ed era la Volte di Santià dopodiché non c'è stato un metodo d'autostrada a Genova non voglio parlare delle ferrovie o sapete com'è la storia Genova è un porto logistico incredibile perché abbiamo il mare abbiamo le ferrovie abbiamo l'autostrada abbiamo l'aeroporto queste quattro cose non ce le ha Milano Milano ne ha solo tre siamo il centro dell'Europa del Sud il centro dell'Europa del Sud la porta d'ingresso dell'Europa del Sud non possiamo perdere queste opportunità noi infatti circa dieci giorni fa abbiamo presentato lo dico qui pubblicamente poi se magari i dettagli ne parleremo un'altra volta abbiamo presentato al Presidente del Consiglio quello che è il piano di Genova 2030 Genova del 2030 cosa vogliamo perché Genova nel 2030 speriamo prima ma insomma un piano decennale per costruire a Genova quell'infrastruttura che ci serve per giocare il nostro ruolo come città europea ma non come una qualunque città europea come la città europea che è l'ingresso del Sud Europa l'ingresso del Sud Europa per i visitatori per i cittadini per le merci per tutto il sistema logistico portuale e culturale sottolineo anche e culturale ecco questo è il nostro ruolo che dobbiamo prendere in Europa e questo è quello che vogliamo fare questo piano prevede e adesso vi dico tutta una serie di investimenti parliamo di circa 5 miliardi che sono stati dettagliati al Presidente del Consiglio e mi è dispiaciuto che oggi quando viene fuori un piano di infrastrutture per l'Italia che ha presentato il Ministro De Micheli ad esempio non solo non si parla di questo ma non si parla neanche della gronda se ci fate caso questo piano 200 miliardi non prevede la gronda e questo per me è una cosa totalmente inaccettabile comunque io vi dico quello che abbiamo previsto noi come piano per i prossimi 10 anni dobbiamo costruire un sistema portuale logistico del Sud Europa per far questo abbiamo bisogno della grande diga foranea che conoscete tutti che ha circa un miliardo di investimento abbiamo bisogno dei nuovi cantieri navali per navi da 400 metri che è il progetto che tutti conoscono come ribaltamento fincantieri però è un progetto assolutamente importante per dare a Genova la possibilità di costruire navi sino a 400 metri abbiamo bisogno ovviamente del terzo valico che è un po' in ritardo ma sta per arrivare abbiamo bisogno del retroporto il retroporto che si può fare oggi sia a Genova che nelle aree del Basso Piemonte nelle aree dopo gli appennini che saranno giustamente e facilmente raggiungibili con il terzo valico quindi questo è un progetto che esiste già e che noi vogliamo sia completato nei prossimi anni questo quota circa mezzo milione mezzo miliardo scusate e abbiamo bisogno del nodo ferroviario in più esiste già un piano logistico intraportuale per fare ad esempio come sapete la sopraelevata intraportuale o l'accesso del porto a ovest e questo piano è assolutamente importante per dare la possibilità di raddoppiare il numero dei container se costruiamo tutta questa infrastruttura noi possiamo veramente pensare a un polo a un sistema portuale logistico del sud d'Europa compreso quindi anche Savona perché la realtà portuale ha tutti e due i porti che possa arrivare a 8 o 10 milioni di TUs che ci porta a essere veramente il punto di ingresso dell'Europa del sud questo deve essere il nostro obiettivo parliamo poi di innovazione digitale abbiamo bisogno di costruire il polo di innovazione digitale attorno a BlueMed sapete che qui a Genova arriverà il nuovo cable che porta dati 240 terabit al secondo arriverà a luglio dell'anno prossimo alla Foce ecco questa è una cosa unica in Italia e questo grande cable ci darà la possibilità di costruire un polo logistico un polo digitale di primo ordine non solo a livello italiano ma a livello europeo perché poi il cavo andrà a Milano e andrà a Francoforte quindi è l'asse principale nord-sud dell'Europa dal punto di vista della trasmissione dati è ovvio che noi dobbiamo costruirci attorno tutto un sistema di aziende che lavorano per questo tipo c'è già interesse dai principali attori mondiali e dobbiamo avere l'infrastruttura pronta e qui c'è un altro mezzo miliardo abbiamo bisogno del trasporto del PUMS del piano urbanistico di mobilità sostenibile piano urbano di mobilità sostenibile sapete che siamo in fase di finale approvazione me lo auguro tutti i giorni io mi sveglio al mattino e chiedo ci hanno approvato o no ecco i famosi 450 milioni che devono arrivare dal ministero dei trasporti ma abbiamo presentato anche il piano per la Val Bisagno lo Sky Tram della Val Bisagno sapete no il tram è sopraelevato esattamente come quello che c'è a Londra sono circa 500 milioni e per tutti quelli che dicono che i tram sono facili da fare pensate sono 7 chilometri 500 milioni pensate a fare il tram in tutta Genova quanti soldi vorrebbero essere e abbiamo anche Erzelli ovviamente 200 milioni il People Mover da portare su per la nuova facoltà di ingegneria questi sono tutti i piani di piano urbano sostenibili trasporti sostenibili che devono esserci per i prossimi dieci anni abbiamo un piano di rigenerazione urbana per il centro storico abbiamo bisogno di investimenti di rigenerazione urbana nel centro storico abbiamo messo un altro miliardo da questo punto di vista e in più c'è la parte finale del waterfront di Levante sapete che noi ora stiamo facendo questi lavori stanno davanti bene il waterfront di Levante dalla fiera fino a Forte Stella ecco dobbiamo ricongiungere quest'area con il porto antico per fare veramente tutta la continuità di un polo diciamo di waterfront riacquisito alla cittadinanza che va dalla lanterna sino alla foce del bisagno e poi si prolunga ovviamente sino a bocca d'asse ecco questo è il nostro piano se a questo aggiungiamo la gronda che è autofinanziata dai cittadini perché lo sapete via la gronda è pagata dai pedaggi ecco noi abbiamo un piano di infrastrutture che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio e che vogliamo sia messo nei piani nazionali noi vogliamo che il recovery fund che viene fatto a livello europeo che ha circa 170 milioni come sapete più questi stanziati dal Ministero oggi la De Micheli ha parlato di circa 200 milioni ecco in tutta questa ma ci deve essere lo spazio per i nostri 5 miliardi ho detto milioni ma ovviamente volevo dire miliardi ecco i nostri 5 miliardi che devono arrivare qui a Genova questa è la battaglia che serve per recuperare il terreno perduto e riprendere il posto che questa città si merita non solo a livello italiano ma a livello europeo e noi ci lavoreremo grazie allora Giacobucci dopo aver disinfettato il microfono Giacobucci abbiamo gli stessi virus abbiamo gli stessi virus grazie a tutti da parte nostra come Fratelli d'Italia avevamo già espresso il nostro pensiero sulle infrastrutture in Liguria anche in altre occasioni come l'interessante convegno che aveva organizzato anche Liguria Popolare che aveva lo stesso tema e in altre occasioni lo ribadiamo qui nella forma che diceva l'onorevole Gagliardi cioè sotto forma di protesta più che di scrivere il primo punto di un programma che dovremmo ancora affrontare una protesta che passa attraverso l'urlo di tutti i Liguri non solo dei Genovesi la Liguria inizia a 20 miglia e finisce a Sarzano o viceversa e tutti i comuni della Liguria soffrono del disinteresse dell'abbandono e dell'incapacità di governo che ha avuto il governo nazionale nei nostri confronti quindi ovviamente la città e la provincia di Genova lo soffrono di più perché metà della popolazione Ligura insiste qua e quindi tutte le movimentazioni imprenditoriali economiche umane ovviamente girano principalmente attraverso la nostra capitale Ligure ma anche il resto della Liguria ha una sofferenza che non è più sopportabile quindi uno degli inviti che facciamo come Fratelli d'Italia anche all'amico e al sindaco Marco Bucci è quello di non rappresentare solo Genova ma come sindaco della nostra capitale come sindaco più amato d'Italia come presidente dell'Anci di rappresentare tutti i comuni della Liguria anche quelli che hanno difficoltà a far sentire la loro voce perché dallo spezzino all'imperiese tutti noi soffriamo del mancato raddoppio della ferrovia delle aurelie bis a macchia di leopardo e di tante altre cose che sarebbero molto importanti per la nostra economia senza pensare anche alla grande viabilità che ci dovrebbe attestare come la vera porta d'Europa e quindi vedere come strategici anche nei confronti della viabilità verso la Francia verso il resto d'Europa ci sono tante occasioni per far sentire la nostra voce sicuramente una l'ha detta Marco Bucci sicuramente un'altra grande occasione sarà la programmazione dei fondi europei che se non sbaglio dovrebbe avere diciamo come appuntamento quello del 2021 2027 dove l'Italia dovrà andare da protagonista a scrivere quali sono le esigenze nel libro bianco europeo e non scrivere altre decine e decine di tappulli che non ci servono più per quanto riguarda il governo obiettivamente non so più cosa dire io ho tutta sta speranza che ci ascolti io non ce l'ho ecco ho solo la speranza che facciano le valigie se ne vadano a casa e arrivi un governo diverso che queste cose le faccia per davvero ecco perché trovo anche molto strano e grave che un governo sia sotto il ricatto di una sola forza politica le coalizioni si chiamano coalizioni perché il pensiero a cui va dato rispetto è il pensiero di tutti se no sarebbero monarchie quindi il fatto che il governo italiano non faccia dei provvedimenti importanti condiviso dal 90% della politica italiana perché una forza politica non lo vuole per motivi ideologici è un fatto gravissimo cioè che basterebbe solo questo per dire che non hanno più diritto a governare né gli italiani né il territorio dove questi vivono quindi non farei più appelli a questo governo per me è un governo che è un po' come lo yogurt è già scaduto e ne va sicuramente formato un attimo un altro se la pandemia lo stop che ci ha dato il coronavirus ha fatto male all'economia ha fatto male le famiglie italiane ha fatto molto bene a questo governo che secondo noi sarebbe già andato a casa se non avesse avuto questa scusa per il resto per tutto il resto l'abbiamo espresso in tutte le maniere anche noi sosteniamo l'importanza della ripartenza attraverso le infrastrutture sosteniamo anche noi e l'ha detto anche Giorgia Meloni in Parlamento che i rapporti con la rete autostradale deve essere rivista con delle convenzioni che non vadano solo revocate e riscritte nell'interesse del territorio non soltanto delle aziende che gestiscono la rete stessa e quindi questo è un po' il succo del discorso impegniamoci tutti per scrivere qual è l'esigenza Ligure ripeto da Sarzana a Ventimiglia perché anche le nostre ali sono importanti per l'economia della regione e poi impegniamoci per vincere le elezioni sia in Liguria che a Roma perché queste cose finché non le faremo noi secondo me non le farà nessun altro grazie e buona giornata e buona domenica per domani innanzitutto grazie grazie al Presidente che ha avuto questa idea di fare una conferenza stampa importante una conferenza stampa importante di significati primo significato come diceva il collega Costa è l'unione mai come in questo momento c'è bisogno di sinergia c'è bisogno di una coalizione forte per dare risposte forti le leggi gli obiettivi si possono realizzare se c'è un'unione politica e penso che qua abbiamo un esempio nazionale di efficienza perché ricordiamoci che il ponte Morandi è frutto veramente di un'attenzione e di una sinergia fra la regione e fra il comune di Genova che deve essere veramente un simbolo per tutti di come quando c'è la forte volontà politica e quando le cose funzionano si possono realizzare le opere quindi noi dobbiamo partire da questo concetto questo concetto di una squadra politica molto forte molto determinata che ad oggi ha un Presidente che sta dando dei segnali forti che fiducia potete avere in un'altra compagine che a tre mesi dalle elezioni non solo non ha un programma non ha una strategia ma non ha un candidato non riescono a mettersi d'accordo neanche per individuare un candidato quindi per me la partita è già finita dal punto di vista politico però mi interessa oggi parlare di amministrazioni mi interessa parlare di opere sapete quanto ci tiene Forza Italia alla legge obiettivo la numero 443 del 2001 di Berlusconi quanto Forza Italia è considerato a livello nazionale il partito delle infrastrutture quanto desiderio noi abbiamo nello sbloccare le opere questa è la nostra linea e io mi auguro che ho la massima fiducia nel Governatore ho la massima fiducia nel Sindaco Bucci mi auguro che il modello è quasi impossibile ma il modello Bucci il modello Ponte Morandi si riesca veramente a imitare magari non addirittura con così tanta efficienza ma in maniera diversa anche in altre realtà noi ci troviamo veramente in una situazione di disagio assoluto per quanto riguarda le infrastrutture io ieri da Sanremo a Rapallo ci ho messo circa 5 ore per quanto riguarda la viabilità è stato un viaggio pazzesco noi ci troviamo indietro sulla mobilità dal punto di vista dell'aeroporto dei treni in Liguria si fa una fatica pazzesca ad arrivare questo ormai è inconcepibile ricordo e apro la parentesi e chiudo quanto sia importante anche nella nostra realtà i due trafori uno per Santa Margherita Ligure e di conseguenza Portofino e l'altro per l'entroterra Rapallo il sindaco di Rapallo rappresenta una delle realtà più importanti dal punto di vista numerico siamo 30.000 31.000 abitanti e andiamo 80.000 90.000 è insostenibile quello che sta succedendo oggi con la nostra viabilità e l'unica soluzione sono le infrastrutture che sia chiaro perché è l'unica risposta noi abbiamo fatto fare degli studi dai docenti universitari ma per avere una qualità di vita dignitosa noi dobbiamo lavorare su questo aspetto e per avere questo risultato noi dobbiamo avere una forte determinazione politica con l'Unione e questo secondo me è il nostro obiettivo e soprattutto è la nostra forza ricordiamoci che ci troviamo a tre mesi dalle elezioni con un amministratore che sta andando avanti a 300 all'ora che è il centro-destra e dall'altra parte c'è il nulla completo quindi io ringrazio per questa occasione questo non dovete secondo me dimenticarlo cioè è una cosa pazzesca che a tre mesi dalle elezioni non si sappia chi è l'antagonista di una forza politica cioè è quasi una barzelletta quindi anche un bambino di dieci anni può dire se non si mettono d'accordo su un candidato figuratevi voi mettersi d'accordo su dei programmi figuratevi voi sulle infrastrutture sul nostro nodo o sui vari tunnel che dobbiamo fare quindi bene è avanti così grazie davvero bene grazie allora velocemente intanto devo dire che noi abbiamo presentato anche un po' coordinandoci col sindaco il governatore una serie di emendamenti giù come lega per le infrastrutture alcuni sono apparsi anche su alcuni giornali settimana scorsa il tema è che adesso abbiamo il decreto rilancio decreto che dovrebbe secondo l'intendimento del governo arrivare in terza lettura quindi saranno emendamenti presentati alla camera emendamenti presentati al senato perché Conte ha detto non mettiamo la fiducia poi bisognerà vedere se mantiamo o meno su questo noi abbiamo spinto soprattutto su tutti quei temi su cui il governo si è impegnato nei confronti della nostra regione e della nostra città nei mesi scorsi mi riferisco in particolare per quanto riguarda il comune di Genova appunto sui 550 milioni per il prolungamento delle linee metropolitane e il rinnovo del parco mezzi e sul progetto appunto delle diciamo delle linee della Val Bisagna eccetera che dove il comune di Genova aveva già partecipato a un bando ministeriale aveva era entrato anche in gradatore nel bando ministeriale salvo che col nuovo governo hanno stravolto tutto e i soldi sono finiti a Bologna e Torino quindi la De Micheli aveva detto che manteneva l'impegno su Genova noi chiediamo che l'impegno su Genova venga mantenuto con un atto a livello legislativo questo anche per consentire al comune di poter fare le sue programmazioni negli anni successivi perché effettivamente questo vuol dire cambiare la mobilità all'interno del comune di Genova abbiamo fatto un emendamento a livello nazionale sul fondo TPL altro problema grossissimo sulla mobilità è che noi non abbiamo solo il problema di autostrade e ferrovie ma abbiamo il problema che le città tutte le aziende di trasporto pubblico locale quest'anno rischiano di non chiudere i bilanci e di andare in fallimento e quindi su questo abbiamo chiesto un aumento del fondo discusso all'interno di Anci e non portato avanti da nessuno perché in realtà il governo non dialoga neanche con i comuni e quindi su questo credo che ci sarà una forte attenzione a livello di commissione bilancio poi abbiamo spinto sul completamento rapido della Genova Milano perché l'alta velocità a Genova sarà solo collegandosi con Milano o con Piacenza lo dico perché ieri ho lasciato ho fatto un esempio ma il Frecciarossa benissimo che ci sia ma se il Frecciarossa mi ci mette di più di un Intercity ad arrivare a Roma il cittadino paga il doppio del biglietto e ci mette tanto come un Intercity quindi il Frecciarossa che viene messo funziona benissimo da Milano fino a Genova funziona malissimo da Genova fino a Roma con 5 ore 11 di percorrenza 5 ore 16 ci mette un Intercity il Frecciabianca ci metteva 4 ore 40 questo lo dico perché è evidente che se non si fanno le infrastrutture si può mettere anche una Ferrari ma se una Ferrari noi la facciamo correre su una strada di montagna non asfaltata come posso dire forse è meglio metterci un Land Rover il tema è che non si può vivere solo di improvvisazione le infrastrutture vanno progettate sulla gronda autostradale noi portiamo avanti lo sblocco dei lavori su tutte le autostrade italiane ci sono quasi 20 miliardi di lavori bloccati di investimenti privati spesso già pagati coi pedaggi dai cittadini il più importante su Genova la gronda di Genova ma non è l'unico ci sono tutte le terze e quarte corsie in Italia e casualmente l'unica cosa che ha sbloccato la De Micheli sono stati 600 milioni su Bologna sulla circonvolazione di Bologna poco prima delle elezioni in Emilia Romagna quindi quando mi si dice ma il problema della revoca su autostrade la gronda non è un problema perché hanno già sbloccato l'Emilia Romagna non sbloccano la gronda di Genova si potrebbe benissimo tenere aperto il problema della revoca ma far pagare autostrade i 4 miliardi e 100 che hanno già stanziato sulla gronda di Genova pagati dei contribuenti che hanno pagato il pedaggio negli ultimi 15 anni in tutta la rete nazionale iniziare i lavori e poi in un'eventuale revoca i lavori passeranno al nuovo concessionario anche perché questi lavori sono oneri nelle convenzioni quindi noi stiamo regalando liquidità ad Aspi che invece di fare i lavori se li tiene in banca e li utilizza sul mercato dei capitali magari per fare investimenti a Singapore e da altre parti visto che dipendono dal Fondo Applantia che non veste solo in Italia ma anche in altri paesi sulla gronda torno a dire parlando di autostrade è che l'attuale situazione era prevedibile io ne avevo parlato a settembre bisognava fare una programmazione a livello infrastrutturale a livello di ministero dei trasporti e delle infrastrutture diversa non è stata fatta non si è utilizzato la situazione del lockdown del covid per proseguire a differenza invece di alcuni cantieri nel centro Italia in autostrada e soprattutto del ponte Morandi su Genova come altri cantieri per cui a mio avviso è mancata una programmazione o meglio si è voluto scientemente arrivare a ridosso dell'estate per avere una forte pressione sulla Liguria e far vedere sostanzialmente e scaricare le tensioni sugli enti locali questa è una cosa inaccettabile inaccettabile perché un governo non può utilizzare strumenti come queste per mettere in difficoltà gli enti locali lo dico da ex viceministro mai ho fatto una cosa così neanche nelle regioni dove governava il PD quando c'era il governo giallo verde mai anzi ho sempre cercato di dare una mano ai governatori e se volete parlate ai governatori di centro-sinistra quindi questa è stata una scelta che è stata fatta o per incapacità o per volontà politica la situazione oggi è tragica ma sarà più tragica se non parte la gronda perché guardate i lavori che si stanno facendo adesso saranno lavori provvisori per i prossimi 5-6 anni alcune gallerie nel tratto di Genova e vi adotti se non si rifaranno completamente col blocco totale della viabilità ci saranno problemi e quindi la gronda serviva anche proprio per avere un bypass sulla città di Genova declassificare la rete autostradale e consentire il rifacimento completo delle volte delle gallerie quindi i lavori della gronda sapete sono intorno ai 6 anni se non si parte subito vuol dire che tra 6 o 7 anni la Liguria avrà per 2 o 3 anni le autostrade chiuse e lo voglio dire adesso perché purtroppo le opere pubbliche non si fanno in 15 giorni se noi abbiamo lanciato a livello nazionale il modello Genova e io come responsabile delle infrastrutture in Lega ho lottato molto su questo è perché il modello Genova tiene conto anche della velocità del cantiere non solo di una semplificazione normativa tiene conto di lavorare 24 ore su 24 tiene conto di pagare le aziende a 5-10 giorni e non a 300 giorni facendo fallire le aziende tiene conto dei tempi delle opere utilizzando e facendo circolare più velocemente il denaro con gli stessi soldi si fanno più opere banalmente perché una parte dei soldi che tu paghi le aziende torna lo Stato dietro in posizione fiscale torna ai cittadini che vanno a fare la spesa e paga ulteriormente lo Stato tramite IVA e tramite altre cose quindi in realtà il modello Genova è virtuoso anche per la finanza pubblica ma questo sostanzialmente consentirebbe di ristrutturare tutta la rete infrastrutturale italiana prima che si verifichino situazioni come il Ponte Morandi perché situazioni come il Ponte Morandi in questo paese sono ancora purtroppo possibili l'abbiamo visto durante il lockdown sul ponte di Anas ponte di Anas che non volendo seguire le indicazioni modello Genova ci metteranno più tempo a costruire di quanto noi abbiamo rifatto il Ponte Morandi purtroppo è un ponte che costa 4 milioni e mezzo a differenza dei 200 milioni del Ponte Morandi e che si potrebbe lavorare tranquillamente senza dover abbattere delle case che si parla oggi di fare in un anno una passerella provvisoria e non riattivare la circolazione solo perché un partito che è il Partito Democratico che ai tempi aveva votato contro il decreto Genova unica forza politica in Parlamento non vuole utilizzare quel modello credo che questa roba qua sia una roba assurda perché non è che va a discapito di qualcuno va a discapito degli italiani e sembriamo dei cretini a livello mondiale quindi lo dico perché da una parte c'è chi lavora 24 ore al giorno tutti i giorni e ringrazio le maestranze le aziende gli enti locali il governo sono tutti e so è l'Italia che lavora che vuole costruire che vuole uscire dalla crisi che vuole diventare più forte che non vuole essere seconda a nessuno in Europa e poi c'è l'Italia dei fancazzisti quelli che credono che le cose si fanno da sole che non bisogna lavorare che si può stare a casa che non c'è problema che intanto qualcuno ci penserà e che intanto alla fine mese qualcuno provvederà e lo Stato provvederà vi dico una cosa dall'inizio dell'anno lo Stato ha bruciato 100 miliardi tre finanziarie senza risolvere un problema ha drenato liquidità le imprese invece di darle perché la cassa integrazione è stata una misura che è arrivata con 3-4 mesi di ritardo e chi poteva ha anticipato i soldi ai lavoratori e dal 17 di agosto avremo piccole aziende e medie aziende che chiuderanno e gente che verrà licenziata probabilmente neanche senza la cassa integrazione perché stiamo erodendo tutti i fondi quindi non si può pensare di uscire da questa situazione senza rilanciare il paese noi riteniamo che le opere pubbliche siano importanti perché danno lavoro ma perché servono poi a sviluppare l'economia e si vede che in Liguria noi possiamo far vedere al mondo quanto è bella la nostra regione ma se nessuno ci può arrivare voglio vedere quanti turisti e come riusciremo quest'estate a affrontare alla stagione turistica e lo dico perché mi sono battuto sugli aerei che oggi l'aeroporto è praticamente chiuso quando abbiamo dato 3 miliardi di euro all'Italia senza un piano di voli nazionali senza una conversione sugli aerei cargo quindi il nostro export oggi utilizza vettori stranieri quando abbiamo aerei italiani a terra che potrebbero convertire perché internamente hanno i brevetti per farlo e potrebbero farlo non c'è oggi un piano su quello non abbiamo un piano ferroviario oggi ci ha messo il frecciarossa banalmente perché i frecciarossa sulle linee ad alta velocità ne vengono tenuti a casa quasi il 60% della situazione pre-covid quindi e ci sono molti meno treni e quindi ci sono molte più tracce però non è una soluzione abbiamo ritardi sui pagamenti sul terzo valico con il rischio del blocco di cantiere da parte di ferrovie abbiamo una situazione in cui invece di accelerare i lavori i lavori vengono rallentati la settimana scorsa è venuto Mauceri commissario del Nodo di Genova che mi ha detto che forse finalmente dopo sei mesi si riuscirà a riaprire quel cantiere ad oggi il cantiere è chiuso da due anni e mezzo siamo in ritardo di più di due anni sul cronoprogramma per un dibattito di pochi milioni di euro tra le aziende e ferrovie allora io quello che chiedo è che ci sia una spinta del governo veramente al rilancio le opere che si possono fare ci sono noi abbiamo su autostrade investimenti privati bloccati per circa 18 milioni di euro 14,6 sulla rete Aspi 3,3 sulle reti degli altri gestori su Genova abbiamo immediatamente cantierabili 4 miliardi e 100 della gronda che basta una firma e i cantieri partono e tutte le terze corsi in Italia per un valore di altri 2 miliardi e mezzo di euro già di soldi pagati dai contribuenti e non di soldi statali ma privati che torno a dire erano oneri delle concessioni quindi non possiamo far sconti a chi non ha fatto le manutenzioni l'altro tema è invece su tutti i ritardi su Anas io voglio dire la mia vicinanza in questo momento ai sindaci della Valle Stura che si trovano con tutte le strade isolate e costretti a passare in strade sterrate per andare loro per la chiusura contemporanea prima diciamo per corsia unica sulla 26 poi la chiusura del cosello di Masone che ha isolato la valle a causa della frana ancora presente al miocchetto e della frana presente ancora sulla statale del Turchino ho parlato anche con l'amministratore delegato sia di autostrade sia di ANAS per chiedere un intervento urgente perché siamo arrivati che con l'allerta gialla e la chiusura da parte del Piemonte noi non riusciamo neanche a mandare ambulanze allora sta roba è intollerabile è intollerabile che il ministro non muova il culo e venga a vedere cosa sta succedendo o quando viene qua non si prenda impegni precisi che sia uomo che sia donna che sia chiunque un ministro è un ministro non è né del PD né della Lega né di nessuno è un ministro e se c'è una regione isolata muove viene a vedere la regione parla con i sindaci e stabilisce col sindaci governatori e le prefetture il modo di uscire non lascia la gente sola lo dico perché su questo sono assolutamente arrabbiato e credo che sul discorso della Diga noi abbiamo presentato anche qua un emendamento che mi auguro venga votato come richiesta all'unanimità anche dalle forze di governo sui 600 milioni da mettere a luglio almeno come impegno per poter fare la gara dell'appalto della Diga di Genova perché l'altro problema che abbiamo che nessuno dice è che appena aprirà Betolo e verrà messo le navi da 20.000 tonnellate a parte che non si sa se riusciranno a manovrare ma il tema vero è che noi riusciamo il blocco del porto di Genova e quindi il tema nostro è anche lì se non si inizia adesso a partire con la gara d'appalto e non si stanziano le risorse noi rischiamo tra 5 anni di avere il porto chiuso abbiamo trovato le risorse per il raddoppio della Genova 20 miglia un miliardo e mezzo perché come sapete io quando ero vice ministro l'ho messa tra le linee di adduzione dell'alta velocità nei corridoi europei e quindi si possono usare fondi europei l'Italia ha 10 miliardi di fondi europei non spesi che il governo continua a non spendere abbiamo scritto anche il commissario europeo che ci dice sarebbe cosa buona e giusta spendere un miliardo e mezzo sul raddoppio della Genova 20 miglia quindi noi per una volta siamo d'accordo col commissario europeo e proponiamo un emendamento in linea con la commissione europea per spendere i fondi europei per una linea di interesse europeo e voglio capire se il governo questi soldi che ci sono li mette o non li mette perché non servono 50 milioni serve un miliardo e mezzo perché è un appalto unico che o si finanzia o se non si finanzia ci possiamo mettere 100 milioni all'anno per i prossimi 15 anni prima di partire con la gara sul tunnel della Fontana Buona l'abbiamo portato avanti anche perché nella problematica con Aspi era emersa anche la possibilità del governo o di una revoca o di una diurnia ricontrattazione della concessione con aumento di oneri e a questo punto il governo è indeciso se mettere o meno dentro il tunnel della Fontana Buona noi abbiamo detto il tunnel della Fontana Buona intanto si può coprire con soldi presenti nel bilancio dello Stato se poi deciderà la revoca si tengono i soldi dello Stato se deciderà la non revoca che almeno entrino nella contrattazione con Aspi perché io non vorrei che non si facesse la revoca e non si facessero manco pagare gli oneri quindi il tema che siamo a questo punto è quello che noi dobbiamo portare a casa non per noi ma per la regione in futuro una serie di opere che altrimenti rischiamo non di essere isolati oggi perché quello che vediamo oggi in autostrade può essere decuplicato gli anni successivi ma per iniziare a uscire da questa situazione di stallo ecco su questo sono state fatte anche delle proposte su deroga del codice degli appalti per portare il modello Genova a livello nazionale modificando i codici e facendo in modo che le cose che sono successe a Genova possano succedere in tutte le altre opere pubbliche perché credo che noi abbiamo messo in modo modello virtuoso dove partecipavano gli enti locali e il governo nazionale che ha funzionato sia con un governo diciamo amico sia con un governo non amico quindi non è che ha funzionato solo quando c'era Rixi al governo perché le cose del decreto Genova stanno andando avanti anche quando Rixi non è al governo perché il modello funziona perché non è un modello politico è un modello di lavoro quindi se noi utilizzassimo questo sistema su tutte le altre repubbliche nazionali noi a quel punto effettivamente potremmo dare liquidità alle aziende soprattutto del settore edile e alle piccole e alle aziende subappaltatrici ma potremmo finalmente risollevare il problema infrastrutturale del paese queste sono un po' le cose che volevo dire poi se ci sono domande ovviamente noi siamo qua per rispondere quello che mi fa arrabbiare è quando qualcuno viene in Liguria a promettere soldi o cose e invito i giornalisti ad andarsi a leggere le dichiarazioni del ministro di settembre ottobre novembre dicembre e di andare a vedere cosa diceva sulla gronda cosa diceva sui finanziamenti del comune di Genova cosa diceva su tutte le cose e vedere i risultati ad oggi quindi c'è un decreto in discussione vediamo se il governo prima delle regionali mette a posto queste promesse oppure perché le opere pubbliche non sono robe da campagna elettorale perché passano il mandato di un governatore le opere pubbliche sono roba da statisti nel senso che tu devi pensare che lo fai per il bene del tuo paese a prescindere perché magari poi l'inaugura anche il governatore successivo però è evidente che noi in questa situazione non possiamo far sconti a nessuno quindi io sono pronto a ringraziare il ministro e l'attuale governo se in questo decreto verranno mantenute quelle promesse che per un anno non sono state mantenute in questa regione grazie lo ringraziamo lo ringraziamo in coro al ministro allora grazie a tutti ovviamente ora le domande come avete capito potevamo stupirvi con effetti speciali quelli li lasciamo a Villa Panfili dove si si ragiona dei prossimi 200 miliardi di euro ho letto anche del completamento dell'alta velocità tra Genova e Roma qualcuno spieghi che il completamento che non è non è ancora partita però ben venga anche il completamento l'importante sarebbe partire così si completa dopodiché noi saremmo già contenti se invece che fare gli stati generali del futuro facessimo l'analisi del presente e facessimo partire qualche cosa di quel che già abbiamo in casa e che basterebbe una firma perché io ricordo molto bene il piano straordinario delle infrastrutture Ligure alluvione novembre 2019 promesso mai arrivato firma della gronda entronatale promessa è mai arrivata sblocco del nodo di Genova promesso nomina di un commissario peraltro non concordato brava persona ma anche su questo sarebbe opportuno ricordare che quando i commissari sono i sindaci o i governatori vedi i bucci o vedi i cantieri del bisagno le cose si fanno quando i commissari arrivano perché si vuol mandare qualche proconsole da fuori talvolta funzionano un pochino peggio va bene questo volevamo dire domande se ci sono nessuna domanda potete andare a pranzo buon pranzo buon sabato grazie a tutti